Vincenzo Peretti, professore di Zotecchia Generale all'Università Federico II di Napoli. Oggi siamo qui a parlare di eccellenze campane e tutela delle nostre eccellenze campane in una stupenda sala, che è quella della Camera del Commercio di Salerno. Noi siamo convinti che oggi l'economia debba ripartire in una regione che per anni è stata uccisa da una comunicazione sfrenata. Non stiamo lontano da un territorio che si chiama Terra dei Fuochi, che ha portato molte aziende della nostra regione a chiudere, soprattutto le piccole e medie aziende. Su questo che noi vogliamo intervenire parlando di ripresa economica. Come si può fare per ripartire? Sicuramente considerando la biodiversità animale e la produzione d'eccellenza. La regione campane ha frazioni tipiche. Dobbiamo però creare il sistema giusto e fare in modo che questo sistema possa dare economia. La biodiversità può dare una mano, ma dobbiamo accanto alla tipicità della traduzione mettere l'innovazione. L'innovazione oggi è ricerca e promozione. Dobbiamo attivare una ricerca più attenta ai problemi del territorio, meno di laboratorio come la definisco io, ma più di campo. Una ricerca che sia in grado di promuovere e dare quelle giuste dritte a tutti gli imprenditori onesti della nostra regione. Ricordiamo che in Regione Campania non ci sono i disonesti come qualcuno vuole far intendere, anzi non ci sono solo disonesti come qualcuno vuole fare intendere, anche perché ci sono le nostre forze dell'ordine, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri del NAC e tant'altri, che tutti i giorni fanno controllo. Ma ci sono persone serie che ogni mattina si alzano e lavorano seriamente, producendo qualcosa che deve ancora avere il giusto riconoscimento. E' su questo che noi parleremo in questo convegno e su questo che la nostra attenzione verrà posta per far sì soprattutto che vengano tutelati i consumatori.